Ed eccoci di nuovo assieme in questa nuova digressione casuale. Ormai dovresti sapere che le digressioni casuali sono delle digressioni appunto dal tema principale che è quello della crescita e del risveglio, di cui poi trattiamo nel salto quantico, in questo video libro gratuito che trovi su YouTube. In questa digressione voglio parlarti di un tema un po' particolare, ed è una sorta di momento di consapevolezza che ho raggiunto qualche giorno fa. Mi sono reso conto di una cosa estremamente palese, ma che in effetti non è così semplice da vedere, anche perché in tanti anni mi sono reso conto soltanto adesso. Se c'è una cosa di cui sono abituato a fare, quindi una cosa che sono abituato a fare, è quella di notare gli schemi ricorrenti. Un po' perché nel nostro mondo tutto funziona per schemi, ne parlavo in una digressione precedente. Un po' perché anche quando aiuto la gente, per me è importante comprendere gli schemi che stanno nelle menti delle persone, in modo tale da capirne i comportamenti, le azioni, e quindi capire da dove arrivano e come si sono creati, ed eventualmente cambiarli. Bene, di che cosa mi sono reso conto? Se hai visto i video del salto quantico, avrai visto che tutta la prima parte parla delle illusioni, ovvero di queste illusioni che sono state messe in atto dai poteri forti, per, in qualche modo, illuderci, distrarci, fare in modo che noi diventassimo schiavi e consumatori, e fossimo sotto il loro controllo. So che questa potrebbe sembrare una sorta di teoria complottistica, non a caso tra l'altro ho una maglietta che è a tema, se così si può dire, ma è anche vero che diventa talmente tanto palese tutto questo, che diventa difficile far finta di non vederlo. Soprattutto quando noti lo schema che c'è dietro. Facciamo un passo indietro, facciamo un passo indietro nella storia, e notiamo che da sempre, da sempre, in tutti i popoli, in tutte le nazioni conosciute, c'è sempre stato qualcuno alla ricerca di potere e controllo. Potere, che in genere vuol dire denaro, quindi acquisizione di terre, terreni, o denaro vero e proprio, oro, materie prime, o appunto adesso carta, o comunque insomma la capacità di acquisto e di possedere sempre di più. E poi controllo, ovvero la capacità di poter controllare tutto, dalle persone, prima di tutto, prima avevamo gli schiavi, adesso abbiamo degli schiavi moderni, ci controlla in un modo diverso, non abbiamo più le catene e i polsi, ma abbiamo i debiti alle spalle, che sono molto simili, e non soltanto controllo, controllo a tutti i livelli, quindi adesso c'è la smania del controllo, non soltanto delle persone, ma anche addirittura dell'atmosfera, degli eventi climatici e di tanto altro. Ma di tutto questo abbiamo parlato nel salto quantico, quindi non vado ad approfondire. Qual è però il principio che c'è dietro questo? Diciamo che in linea di massima c'è un sistema, chiamiamolo sistema, poi possiamo chiamarlo come vogliamo, però in questa digressione o in genere io utilizzo chiamarlo sistema, il sistema. Che cos'è il sistema? Il sistema è quel sistema appunto, che è stato creato in qualche modo da determinati potenti, sappiamo adesso di chi parliamo, perché parliamo delle famiglie potenti, se parliamo nel momento storico attuale, che mirano a ottenere sempre più territorio, sempre più spazio, sempre più denaro, sempre più potere, sempre più controllo. Questo è l'obiettivo. Ricorda che questo obiettivo, controllo e potere, è un obiettivo che si trova sempre, è una costante di tutte le ere, di tutti i grandi potenti, di tutti quelli che hanno cercato di arrivare da qualche parte, da quelli che hanno causato guerre, in tutti i settori, in tutte le nazioni, in tutte le ere abbiamo trovato sempre qualcuno che voleva potere e controllo, che si scontrava contro qualcun altro che voleva anche esso potere e controllo. Adesso ci sono meno guerre, ma ci sono ancora. Quindi, prendiamo questo schema di massima, ovvero, e lo chiameremo sistema, c'è qualcuno, identificato come una persona, una famiglia, più famiglie, un gruppo, un governo, o chi per lui, che vuole potere e controllo. Volendo questo potere e controllo, crea un sistema, affinché questo obiettivo possa essere raggiunto. Questo sistema viene spiegato, insegnato e indottrinato a una sorta di elite di persone. Persone che prendono l'autorità per poter fare qualcosa per il popolo, o meglio, per poter risolvere qualche problema per il popolo. Queste persone che vengono indottrinate, o vengono istruite dal sistema, hanno appunto un'autorità per poter risolvere qualcosa, o fare qualcos'altro. Il popolo, gli schiavi, le pecore, noi, nel momento in cui hanno un determinato problema, o una determinata necessità, dovranno rivolgersi a chi di dovere, quindi a chi ha avuto l'autorità, per cui sono stati investiti dal sistema, e grazie a questa autorità, hanno appunto l'autorità per risolverti il problema, o per darti la soluzione. Quindi, quali sono le scene in campo? I potenti, quindi i poteri forti, che vogliono controllo e potere. Un sistema creato per poterlo raggiungere, quindi delle persone indottrinate, per poter far sì che questo sistema venga raggiunto, e delle persone indottrinate che acquisiscono l'autorità, per poter dare una soluzione, a chi avrà un problema, o una necessità. E poi chiaramente c'è chi avrà un problema, o una necessità, e sarà stato abituato dal sistema stesso, a dare la responsabilità a qualcuno, che ne sa di più, e che ha l'autorità per risolverlo. Questo schema, è lo schema piramidale classico, che porta al controllo, e al beneficio di pochi. Sai qual è il bello? Che questo schema, fatto di questi livelli, esiste ovunque. Perché questo è il sistema. c'è sempre qualcuno che ne beneficia, che vuole il controllo, che crea un sistema, dove qualcuno viene indottrinato per questo sistema, o addirittura paga, per avere la conoscenza di questo sistema, perché questa è l'apoteosi, quindi c'è qualcuno che paga per poter essere indottrinato, e grazie a quell'indottrinamento, prende un'autorevolezza, un diploma, una laurea, o quello che sia, o un pezzo di carta qualunque, e grazie a quel pezzo di carta qualunque, la gente pensa, che abbia l'autorità, e la capacità, di risolvergli un problema qualunque. E poi ovviamente c'è, per i vari problemi, o per le varie necessità, ci sono i vari personaggi. Vediamo se questo è applicabile un po' a tutto. Prendiamo come primo esempio, la medicina. La classica medicina allopatica, cioè quella che arriva dalle parti nostre, nel mondo occidentale. Qui non parliamo di medicine alternative per adesso, ma parliamo di medicina allopatica, quella fatta di medicine, cioè hai un sintomo, te lo spengo con una medicina. Che cosa accade? Abbiamo sempre i potenti, che vogliono potere e controllo, i quali generano un sistema, per poter avere quel potere e quel controllo. Quindi creano, in questo caso nella medicina, un sistema di studi, e delle logiche, e degli studi pagati, da loro ovviamente, che dimostrano che, determinate malattie, devono essere curate, con determinate medicine. Le medicine da chi vengono prodotte? Da loro. Quindi, vengono eliminate, tutte le medicine alternative, o meglio, tutte le, tutte le terapie alternative, che non danno, reddito e potere, a chi ha creato il sistema. E, viene creato, un sistema di studi, che è quello che poi, viene insegnato, a scuola e nell'università, per cui, chi paga, per iscriversi all'università, e diventare medico, viene indottrinato, e si convince, che, ciò che ha studiato, è così. Perché, sopra di lui, ci sono degli studi, fatti da scienziati, scienziati, che in genere, sono pagati, da chi detiene il potere. Quindi, chi detiene il potere, paga gli scienziati, che crea, autorevolezza, sugli studi, che spesso, non sono, proprio, o meglio, vengono, manipolati, per necessità, appunto, del sistema, crea questo sistema, genera, questo, 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 questa, questo percorso di studi, escono i medici, che hanno una bella laurea, e tu, quando stai male, hai il tuo problema, perché ti fa male qualcosa, dentro, fuori, o chissà che cosa, non te lo risolvi da solo, perché pensi di non esserne capace, e vai da chi, ha l'autorità per farlo, e quindi a un pezzo di carta, perché sei convinto, che quella persona, ne sa più di te, in realtà, quella persona, ha studiato dal sistema, che vuole, il potere e il controllo, da parte, di chi l'ha creato, ricordiamoci, quindi, questa persona, che cosa farà? Tu andrai lì, con un problema, ti fa male qualcosa, o hai qualche tipo di malattia, ti darà la medicina migliore, per te, sappiamo benissimo, che le medicine, mentre ti aggiustano una cosa, te ne rompono altre, tra l'altro, non a caso, se vedi, su qualunque medicina, gli effetti utili, della medicina, vengono spiegati in due righe, del bugiardino, che sarebbe, il libretto di istruzioni, cioè quel foglietto, che ormai è diventato, sempre più grande, e che non a caso, si chiama bugiardino, chissà come mai, c'è che dice, un sacco di minchiate, ma lasciamo perdere questo, i benefici reali, di una medicina, sono due, tre righe, gli effetti collaterali, sono due pagine, in realtà, dovremmo dire il contrario, cioè che gli effetti, della medicina, sono quelli che vengono chiamati, effetti collaterali, e il fatto che tu guarisca, è l'effetto collaterale reale, cioè, oltre a farti del male, potrebbe anche, farti del bene, il bene, attenzione, il bene secondo la medicina classica, è spegnerti il sintomo, non curarti il problema, perché, la medicina classica, dice che, o meglio, quella creata dal sistema, dice che, non è importante, tutto il tuo corpo, tutta la tua mente, tutto il tuo spirito, è importante soltanto, che se ti fa male un dito, ti do la medicina, per farti passare il dolore al dito, me ne frego, del perché ti è venuto il dolore al dito, o, chissà quale altra malattia, non è importante, quindi, cancellano, i 3000 anni di studi, della medicina orientale, questo, ce lo fanno dimenticare, perché al sistema, non fa comodo, mentre, fa comodo, che tu diventi, un, un malato cronico, e quindi, spendi, costantemente, a vita, in medicina, e tu, o la sanità pubblica, che siamo sempre noi, tanto comunque, chi di dovere, chi sta sopra, in cassa comunque, quindi, questo ad esempio, è il sistema applicato, alla medicina tradizionale, ma, vediamolo ad esempio, in un qualcos'altro, nella storia, nella storia, delle nostre nazioni, nella storia dei fatti, ricorda, c'è una frase, abbastanza reale, che dice, la storia, la scrive chi vince, e, se vai a vedere, o meglio, ipotizziamo che, il popolo, il pubblico, i bambini, i genitori, vogliono, accrescere la propria cultura, e quindi, vogliono studiare storia, per studiare storia, vanno a scuola, a scuola troveranno, chi ha il diplomino, ovvero, coloro che, sono stati indottrinati dal sistema, per insegnare storia, e per questo, gli hanno dato, un bel pezzo di carta, la laurea. Quelli che hanno studiato storia, non si preoccupano, se ciò che hanno studiato, all'università, è vero o no. Normalmente, non fanno ricerche, sulla veridicità dei testi, che gli hanno passato, gli insegnanti, dell'università, perché loro hanno, a loro volta, più autorità. Quindi, diamo per scontato, quello, che gli è stato insegnato, e loro ripetono, a pappagallo, quello che gli è stato insegnato, senza farsi mai domande, oltre, nella maggior parte dei casi. Quindi, che cosa accade? Che al bambino, gli viene spiegata la storia, scritta da chi ha vinto, scritta, da chi, vuole controllarci, e renderci schiavi, e, in qualche modo, avere il potere su di noi. Ricorda che il sistema è sempre quello, potere e controllo, quindi viene manipolato tutto. La storia, la scrive chi vince, e quello che hai studiato a scuola, molto spesso differisce dalla realtà, perché se poi vai a vedere, le altre campane, o vai a studiare in maniera un po' più approfondita i fatti, scopri che molti dettagli, o sono stati celati, o sono spariti, o sono stati cambiati ad hoc, in maniera tale che tu la storia, la venissi a sapere, la venissi a scoprire in modo utile per il potere e il controllo. E normalmente nella storia, spesso vengono nascosti dei fatti, che se fossero messi alla conoscenza di tutti, potrebbero far venire dei dubbi. E i dubbi, ricordiamo che al sistema non piacciono mai, perché ricordiamoci che al sistema, e quindi i potenti, vogliono che tu non pensi, vogliono che tu sia schiavo, controllato, e sia costantemente sotto stress, così che non pensi. Perché se pensi, potresti iniziarti a fare due domande, due domande potrebbero diventare ricerche, due ricerche potrebbero scoprire nuove verità, che non è detto che siano la verità, ma sono nuove verità, nuove verità potrebbero portarti a dei dubbi, dei dubbi potrebbero portarti all'accrescimento della tua conoscenza, e quindi al farti dei pensieri sul forse ci stanno raccontando un sacco di frotto, ma questo farebbe, non fa comodo, perché se tanta gente diventasse istruita, ci potrebbero essere le rivoluzioni, storicamente si sa che una rivoluzione accade quando il 50% della popolazione è istruito, in Italia siamo al 10%, ma non istruzione classica, istruzione di ciò che c'è dietro, conoscenza, mentre da noi la conoscenza non c'è, non viene data, ma questo vale nel mondo occidentale, se non si sarebbe già rivoltato completamente, nel mondo occidentale non c'è, il popolo viene tenuto a pane circo, quindi viene tenuto nell'ignoranza, viene tenuto nello stress, viene tenuto con il divertimento, con le partite di calcio e la televisione, insomma i cosiddetti mezzi di distrazione di massa, come li chiamo io, i mass media sono i mezzi di distrazione di massa, e adesso si sono aggiunti anche internet, facebook e compagno, l'importante è che tu non pensi, quindi questo sistema lo possiamo applicare anche alla storia, ma lo possiamo applicare a qualunque altra cosa, alla scienza, la scienza come al solito ti viene insegnata in base a quello che è stato insegnato all'università, ai professori, ai quali è stata insegnata da altri professori che a loro volta hanno preso prima una laurea, ai quali è stata insegnata da qualcuno che ha fatto delle ricerche, ma ricordiamoci, chi le fa le ricerche nel nostro mondo? le ricerche possono essere fatte solo se finanziate, perché sono molto costose, spesso non portano neanche a dei frutti, quindi sono soldi spesi in qualche modo, chi andrebbe a spendere soldi per le ricerche, se non chi ne andrà a trarre beneficio? e nel momento in cui il beneficio non c'è per chi ha pagato la ricerca, la ricerca viene leggermente stravolta, in modo tale che si possa raggiungere l'obiettivo primario, ovvero il potere e il controllo, nella scienza ad esempio, personaggi come Tesla che avevano inventato la possibilità di trasferire l'energia elettrica attraverso l'aria, cioè noi avremmo l'energia elettrica wireless, senza fili, avremmo potuto avere, sin dai tempi remoti del tempo di Tesla, l'energia ovunque, peccato che il suo finanziatore, sai chi era? colui che ha finanziato gli esperimenti di Tesla, era il più grosso produttore di rame, e indovina che cosa si fa con rame? i cavi elettrici, e Tesla, che è il porello, voleva aiutare l'umanità a vivere meglio, e a togliersi dallo schiavismo dell'elettricità non libera, cosa fa? con il finanziatore che produce rame, lui inventa la torre di Tesla, che trasmette l'elettricità gratuitamente, e la trasmette via etere, ovviamente il finanziatore che dice, ma come? io produco rame e tu fai le ricerche contro di me? che succede? butta giù la torre, distrugge tutto il materiale, e Tesla muore in rovina, tanto che soltanto adesso si comincia a pensare, e a rivedere un po' le cose di Tesla, ma non fa comodo a nessuno, questo vale per le energie alternative, continuano, il sistema continua a indottrinarci, dicendo che il carbone, il petrolio, sono ancora le fonti per forza necessarie, così come il nucleare, quando da una vita, esistono fonti alternative, che producono energia dall'acqua, dall'aria compressa, o dai magneti, ed sono energie libere, sono energie a basso costo, esistono, funzionano, quando qualcuno brevetta qualcosa, l'ammazzano, o finisce, insomma, casualmente muore, per qualche strano incidente, questo perché al sistema, ricordiamoci, non piace chi pensa, non piace chi ha un dubbio, e chi va contro le loro idee, però attenzione, dov'è che voglio portarti, e perché ho fatto tutta questa digressione, dove mi sto allargando, questo sistema di, c'è qualcuno che ti vuole controllare, che vuole il potere, che istruisce qualcun altro, a cui dà l'autorità, a cui tu poi vai, e ne diventi schiavo, e controllato, e consumatore, è un sistema che esiste ovunque, anche dall'altra parte, dall'altra parte intendo, in quello che, in qualche modo, potrebbe essere l'alternativo, ti faccio un esempio classico, prendiamo una qualunque cosa alternativa, la medicina olistica, ok? di cui poi bene o male, è difficile identificare la medicina olistica, perché nell'olistico c'è un mondo, però, che cosa c'è nell'olistico? come funziona l'olistico? non funziona nella stessa maniera, c'è qualcuno, che ne beneficia, chi farà la medicina omeopatica, chi fa le pillorine omeopatiche, chi fa i fiori di Bach, chi fa qualunque altra cosa, beh, c'è sempre qualcuno che produce, e che vuole guadagnare, e che vuole controllarti, quindi vuole guadagnare su di te, vuole che tu diventi un consumatore costante, quindi vuole una rendita, che è quello che vogliono tutti, la rendita, quindi c'è qualcuno, che vuole questo, a questo obiettivo, genera un sistema, questo sistema, non è più la medicina allopatica, che ti dice che per ogni sintomo, ti deve dare la pillolina, qui ti dice che per ogni sintomo, ti deve dare, la pallina di acqua e zucchero, la pallina omeopatica, è più la stessa cosa, oppure ti deve dare il fiori di Bach, oppure ti deve dare qualcos'altro, lasciamo perdere sull'utilità, che questa può avere, ma io ti parlo di sistema, qualcuno vuole controllare, vuole guadagnare, crea un sistema, crea un metodo, dà l'autorità, qui non hai le lauree in medicina olistica, ma hai i diplomini, e quindi ci sono le scuole di medicina olistica, e non sono la stessa cosa, ti danno un diplomino, il diplomino ti autorizza a risolvere il problema, di qualcuno che ce l'ha, quindi qualcuno sta male, se non va dal medico che ha avuto un diplomino da qualcun altro che voleva guadagnare, va dal medico olistico che ha avuto un diplomino da qualcun altro che voleva guadagnare, e non è la stessa cosa, ma andiamo ancora avanti, allora io non voglio né la medicina normale né la medicina alternativa, voglio l'energia, voglio qualcosa di nuovo, allora andiamo da chi fa Reiki, Reiki, parlo di Reiki, non me ne vogliano chi fa Reiki, però io voglio far notare solo gli schemi, Reiki o qualunque altra cosa, Reiki che cosa fa? Io ho un problema o un dolore, o qualunque altra cosa, vado da chi ha un diplomino, Reiki, ma come funziona il Reiki? Nella stessa maniera, c'è qualcuno che l'ha inventato, che ha creato un sistema, un sistema che viene insegnato, dietro pagamento normalmente, che ti dà un diplomino, che ti dà l'autorità, primo, secondo, terzo, quarto livello Reiki, non so neanche quanti ce ne stanno, nel momento in cui qualcuno c'è il diplomino, può risolverti un problema, e ti può, o meglio, può risolverti, difficilmente te lo risolve, ma ti dà un ipotetico beneficio, un ipotetico beneficio che, nel momento in cui tu ne avrai di nuovo bisogno, riandrai lì, e non ne ha creato di nuovo un consumatore, nel momento in cui tu avrai sempre bisogno di qualcuno, che ti fa Reiki per farti stare meglio, non hai creato un consumatore, che genera reddito, per chi ha il diplomino, che ha generato reddito, per chi ha creato il sistema, che ha generato reddito, per chi l'ha creato, non è la stessa cosa, non parliamo di Reiki, parliamo di qualcos'altro, adesso ci sono, adesso vanno di moda, gli healer, healer, che è una parola che, non dovrebbe essere usata per legge, perché healer vuol dire guaritore, quindi quando qualcuno, sta veramente messo male, che sta in crisi mistica, che non è riuscito con la medicina normale, non è riuscito con l'olistico, lui di se stesso, dentro di se non ci va, perché bisogna sempre dare la responsabilità fuori, non sa più a chi dare la responsabilità, perché la medicina olistica, la tradizione non ci sono riusciti, va da un guaritore, da un guaritore ci sono, normalmente adesso si mette guaritore, prima si mette una parolina, può essere healer, prima c'è che ne so, theta healer, reconnective healer, energy healer, quantum healer, c'è sempre qualche cosa che prima di healer, basta che tu sia un guaritore, ma come fai ad essere guaritore? come fai ad essere guaritore? devi fare un corso e prendere un diplomino, ho già sentita questa, quindi ricordiamoci un attimo, c'è qualcuno che ha creato qualcosa, qualunque esso sia, non ci interessa il nome, tanto sono tutti uguali come sistema, ha creato qualcosa, gli ha dato un nome, ovviamente protetto da copyright, normalmente, e che ha l'obiettivo di guadagnare e controllare, quindi di creare un consumatore, una rendita, per avere sempre più potere e controllo, chiamalo come vuoi, non mi importa la disciplina, guarda lo schema, qualcuno crea qualcosa, crea un sistema, indottrina le persone, quindi ci saranno persone che pagheranno, per avere il diplomino, per avere l'autorità, con quel diplomino potranno dire che sono dei guaritori, non perché hanno guarito loro stessi da qualcosa, perché a volte avete delle cose assurde, tipo dei guaritori che sono zoppi, dei guaritori che sono pieni di malattie, non riescono a guarirsi da soli, perché c'è sempre la scusa, perché le cose le puoi trasmettere agli altri, ma è difficile su se stessi, però, lasciamo perdere la coerenza di moltissime persone, ma l'importante ti ripeto è lo schema, quindi hanno la possibilità di poterti trattare o guarire, se così si può dire, quindi tu che hai un problema, vai da questo guaritore di turno, che grazie al suo diplomino farà qualcosa, e in teoria ti dovrà guarire, o se non ti riesci a guarire, dovrai andarci più volte, perché dovrai fare più sessioni, perché non è che proprio tutto funziona così immediatamente, ci sono dei processi lunghi, lunghi, perché se no la rendita come la fai? Non puoi fare una rendita, se non è un lungo il processo, se uno ti guarisse in dieci minuti, non c'è gusto. Quindi, vedi che il sistema funziona così, è sempre lo stesso, c'è questo schema, si ripete, questo schema di qualcuno che vuole controllare, che vuole potere, indottrina qualcuno, acquida autorità dal diplomino, che poi può fare su di te qualcosa, in maniera tale che tu diventi schiavo suo, e gli dai una rendita, quindi vai sotto il suo controllo, ma se tu vai sotto il controllo di un medico, un olistico, un guaritore, o uno qualunque altro, questo sarà sotto il controllo di chi l'ha creato, perché normalmente dovranno fare aggiornamenti, altri diplomini, altri corsi, vorranno fare sempre di più, quindi porteranno sempre soldi, e controllo, e potere, a chi l'ha creato. questo schema lo puoi trovare ovunque, ovunque, qualcuno che vuole controllare, che ha creato qualcosa, che dà un'autorità, con un diplomino, e che ti risolve un problema, in teoria, perché spesso e volentieri non te lo risolvono, o meglio, ti danno l'idea, che qualcosa si sia risolto, ma dopo un po', stai, non ti dico peggio di prima, ma puoi aver risolto qualcosa, di abbastanza semplice, spesso e volentieri, e non voglio dire che non funzionano, però, visto le migliaia di mail, e di messaggi che ricevo, ho tante persone che mi dicono, ho fatto questo, ho fatto questo, ho fatto questo, ho fatto quest'altro, sì, mi ha dato beneficio, però il mio problema principale sta ancora lì, e questo è il bene o male, il principio di base, questo lo capiremo, perché ci arriveremo nel salto quantico, arriveremo a dire le cose come stanno, almeno secondo la mia esperienza, ripeto, però, insomma, è una cosa che poi potrai verificare su te stesso, perché questo, perché le cose spesso non funzionano, o meglio, funzionano per come sono state create, ricorda che il sistema funziona per chi l'ha creato, non per te, tu sei l'ultima ruota del carro, tu sei quello che deve finanziare il sistema, quello che deve dare energia al sistema, tu non devi guarire, tu devi essere malato cronico, malato, attenzione, io ti parlo di malato cronico, tu devi essere consumatore cronico, quindi consumatore cronico vale per tutto, che tu sia un malato, che tu sia una persona che richiede informazioni, che tu sia un consumatore, perché la stessa cosa accade con i consumi, ti hanno insegnato, quindi il sistema vuole controllare e avere potere, ti insegna, e ti indottrina, dicendoti che tu non vali niente, se non hai una determinata immagine, se non usi determinati vestiti, se non usi determinati oggetti, e tu pur di sentirti, e per avere quell'autorità, quindi per sentirti qualcuno, cosa fai? Consumi, consumi anche cose inutili, perché poi, se apri i tuoi armadi, o vedi in giro per casa quello che hai, spesso e volentieri, ci si rende conto di non riuscire ad arrivare a fine mese, ma spesso e volentieri, se si aprono gli armadi, ci sono vestiti, scarpe, oggetti, prodotti, che non vengono usati da anni, e quelli sono soldi, peccato che sono soldi, buttati nell'armadio, non perché fossero utili, non perché ti servissero davvero, perché spesso e volentieri, in quell'armadio, c'è anche dei vestiti con ancora il cartellino, ma che dovevi comprare, dovevi comprare, non perché ti servivano, perché già ne avevi altri 250, ma perché se no, non ti saresti sentito come volevi, e quel come volevi, era voluto dal sistema, tu nel frattempo sei senza un centesimo, ma hai un bell'iPhone 21, che ti è costato un botto, e hai dovuto fare un debito, in maniera tale che tu possa essere schiavo, e ovviamente consumatore, così che chi sta sopra guadagna. Ma vediamo questo sistema, dove altro si può applicare? Praticamente ovunque. Uno degli altri luoghi, in cui viene applicato questo sistema, è la religione. Pensaci, qualcuno ha creato qualcosa, che ha passato a qualcun altro, per cui hanno indottrinato qualcun altro, che ha avuto l'autorità per risolvere un problema. Quindi che succede? Che se hai un problema, che non ha risolto la medicina allopatica, che non ha risolto la medicina olistica, che non ha risolto l'energia, dove ti rivolgi? Vai a pregare la Madonna e i Santi. Eh, però dov'è che vai a pregare la Madonna e i Santi? Mica vieni da me. Vai da chi ha l'autorità. E chi ha l'autorità? Chi c'è il diplomino? In realtà in questo caso non è il diplomino, ma ha la tonaca. Come l'ha fatta la tonaca? Come l'ha avuta la tonaca? Dovendo fare un percorso di studi, indottrinato da chi ha creato il sistema. Ti rendi conto che è tutto uguale? La stessa cosa la trovi sull'alimentazione. Le grandi aziende, quelle che controllano, sono sempre i grandi ricchi, che controllano le grandi produzioni, vedi carne, latte, compagni, non ti diranno mai che quelle cose lì fanno male. Ti diranno che tutti gli studi scientifici che sono stati fatti in 40 anni non sono validi, perché sono teorie, non ci sono prove, perché le vere prove ce l'hanno loro che hanno fatto i veri studi con i veri scienziati. Mica quello che è uno alternativo che non ha nessuna autorità. Loro hanno gli scienziati autorevoli con i diplomini veri che ti dicono che devi mangiare carne, e devi bere latte e devi mangiare tutto ciò che fa parte del latte, quindi caseine e formaggi. Perché? Perché così ti ammali. E ammalandoti che cosa accade? Diventi prima consumatore della carne e del latte, poi consumatore delle medicine. Facile. È lo stesso sistema. L'importante è che tu consumi. Più consumi e meno pensi, meglio è. Questo è il principio di base. Quindi alimentazione, religione, informazione. L'informazione è la stessa cosa. L'informazione che arriva in televisione o sui giornali è indottrinata. Ci sono, c'è stato uno dei più grandi giornalisti tedeschi, se non ricordo male, che ha scritto un libro ammettendo che era pagato dalla CIA. E ammettendo che i giornalisti sono tutti controllati. E anche se ci sono giornalisti di due fazioni diverse, anche le due fazioni sono d'accordo. Perché l'informazione che deve arrivare deve darti un'ipotesi di veridicità. Ma in realtà, dietro deve arrivare quella pagata dal sistema. Ci sono persone, e te lo posso garantire, non mi chiedere perché, ma te lo posso garantire, che vengono chiamati influencer, ovvero gli influenzatori. Che vengono pagati dal sistema, e anche bene, per stare costantemente su internet e sui media a denigrare e a screditare e a togliere credibilità a chi comincia ad avere troppa credibilità. E questo accade anche a me normalmente, adesso che inizio un po' a crescere, inizio ad avere l'influenza degli influencer, che sono quelli che non hanno ragionamenti validi, denigrano, offendono, mirano a screditare, dando delle pseudoprove o dicendo bugie nella maggior parte dei casi, che non hanno senso. perché nel momento in cui cerchi di andare su un discorso realistico, scientifico, logico, comunicativo, tagliano corto e chiudono. Ma sono addestrati così, perché sono addestrati da un sistema. Ma la cosa bella è che loro sono convinti di fare questo per il bene del popolo. Quindi, anche loro sono parte del sistema stesso, perché indottrinati dal sistema stesso. Ti rendi conto che il sistema è ovunque, è ovunque. ecco perché questo video messaggio. Per farti capire che questo tipo di sistema, cioè questo tipo di schema, regola le vite di tutti noi, a tutti i livelli. Ma sai perché questo schema funziona? Perché noi ci lamentiamo che c'è qualcuno che ci vuole controllare e vuole il potere su di noi. Ma quello schema, lo stesso schema, sta nella testa della maggior parte di noi. Perché che cosa fa il padre col figlio? Non applica lo stesso schema. Il padre ha un'idea, ha un obiettivo. Ha un obiettivo e un programma per il figlio. E cerca di indottrinare il figlio affinché quel programma venga realizzato. Molto spesso i genitori vorrebbero che i figli facessero o diventassero quello che loro non sono riusciti a fare o a diventare. E hanno il programma per loro. E li condizionano in modo tale da fargli fare quella strada. Quindi cosa stai facendo? Stai avendo potere e controllo. La stessa cosa. Relazione di coppia? Non è la stessa cosa. Qualcuno di due o meglio entrambi normalmente hanno un loro programma. Hanno un loro programma e tentano di indottrinare l'altro o l'altra per realizzare quel programma. spesso e volentieri tendono di controllare l'altro o l'altra persona affinché realizzi quello che loro hanno nella testa. Ovviamente questo è inconscio ma funziona così. Pensaci. Il sistema di controllo programma e quindi voglia di controllo e di potere programma per realizzarlo e messa in pratica del programma è qualcosa che funziona a tutti i livelli su tutti i sistemi. quindi qual è la cosa che ti voglio dire con questa digressione e con questo vado verso la chiusura è che nel momento in cui tu devi scegliere questo è un mio consiglio ovviamente ognuno per faccia quello gli pare questo è una è una mia appunto digressione è un mio pensiero che ho voluto mettere in video se devi scegliere qualcosa prima assicurati che sia al di fuori del sistema cioè che non rispetti questo schema perché se inizi a studiare o a metterti in mano o a dare la responsabilità a qualcuno se proprio non te la vuoi prendere tu cosa che dovremmo imparare a fare perché la responsabilità è sempre la nostra e le cose le troviamo dentro di noi quindi impariamo noi le cose reali e risolviamocene da sole se proprio vogliamo dare la responsabilità fuori assicuriamoci che questa responsabilità non venga data a chi rispetta uno di questi schemi perché staremo sempre dentro un sistema e questo sistema ci vorrà schiavi del padrone attenzione chi ha il diplomino non lo sa perché pensa di fare la cosa giusta pensa di fare la cosa migliore in realtà non sta non si rende conto che è semplicemente un mezzo del sistema stesso per poter realizzare gli obiettivi del sistema lui è uno schiavo anche esso è uno schiavo di un livello superiore ma sempre schiavo è perché crede senza porsi il dubbio che quel sistema è quello giusto non ha mai fatto non ha mai fatto studi reali a volte impazzisco vedendo personaggi che si innalzano a creatori di nuovi sistemi che vantano guarigioni miracolose ma non portano uno straccio di prova alcuni di questi sono fini pure su strisciano tizia attenzione ma gente di questi fa healer fa questi benedetti healer dritta e manca facendoli pagare 3, 4, 5, 6 mila euro prima di scegliere qualcosa o di metterti in mano a qualcuno cerca di capire se dietro c'è un sistema fatto con questo schema perché se lo schema è questo qualcuno a monte che indottrina e che ti dà un'autorità per poter in qualche modo risolvere un problema a qualcuno questo schema è lo schema classico del sistema governante cioè di chi vuole il potere e il controllo se qualunque cosa tu ti stai mettendo in cui ti stai mettendo dentro che stai iniziando a studiare e a cui stai dando la responsabilità fa riferimento a un sistema del genere preoccupati un attimo e magari informati un po' meglio prima di andare a perdere tempo e denaro su qualcosa che non farà altro che renderti schiavo o meglio più che renderti schiavo farti cambiare padrone perché a volte noi cerchiamo di essere liberi e per liberarci cambiamo gabbia quindi noi crediamo di essere usciti da una gabbia ma ci infiliamo in un'altra se esci fuori da un medico e vai a finire da uno psicologo e dallo psicologo vai a finire da un coach e da un coach vai a finire da un prete stai cambiando gabbia ma stai sempre finendo sotto il controllo di qualcuno cerca di trovare qualcosa che esce fuori da un sistema tu adesso mi dirai come si fa è difficile è vero perché nel nostro mondo occidentale è estremamente difficile fare qualcosa del genere perché tutto funziona attraverso questo sistema o meglio tutto ciò che trovi all'interno del sistema perché se tu cercherai un metodo su google su google chi troverai chi potrà mettere i soldi per poter fare pubblicità e chi utilizzerà soldi per fare pubblicità chi vorrà altri soldi da te perché se no non funzionerà quelli che lo fanno gratis hanno difficoltà a farsi notare vedi me per esempio che per farmi notare e per mostrare tutto gratis non è facile perché o mi trovi attraverso gli articoli o mi trovi per il passaparola io non ho fondi per pagare migliaia di euro a google per dire guarda che io ti insegno le cose che gli altri ti danno a pagamento e te le do gratis dovrei fare pubblicità per dire guarda che io ti do queste cose gratis guarda che esiste un mezzo per poterle imparare gratis non posso farlo perché non ho i fondi e quindi usiamo il passaparola sarà più lento ma arriverà uguale vuoi un altro mezzo fuori dal sistema beh se vuoi imparare qualcosa al di fuori del sistema puoi ad esempio andare nei paesi asiatici o indiani e andare in qualche ashram o in qualche monastero e andare con loro e farti e vivere con loro io qui sono in Telangia adesso mentre giro e ho qui a fianco a me praticamente un monastero buddista se volessi potrei andare da loro e stare con loro e imparare da loro e meditare con loro e avere gli insegnamenti da loro loro non mi chiederanno soldi loro mi chiederanno tu vivi con noi ti svegli alle 4 e mezza di mattina fai meditazione con noi fai colazione con noi e dopo ci aiuti a costruire il tempio con noi e impari con noi tutto quello che facciamo questo è al di fuori del sistema loro non ti vogliono schiavo non ti vogliono controllare non gliene frega niente se rimani un giorno 10 o 20 o 100 basta che loro ti danno tu gli dai o tu gli dai non sei neanche obbligato però se vivi con loro rispetti le loro regole certo non puoi vivere nel monastero e svegliarti alle 10 di mattina o se dormi dentro una cella o una celletta non puoi sperare di avere l'aria condizionata e la stanza a 4 stelle questo è al di fuori del sistema ma non è facile trovarlo quando la gente mi dice conosci qualche sciamano o dove posso trovare gli sciamani gli sciamani non li trovi su internet quelli che trovi su internet li trovi che rispettano lo stesso sistema su quegli sciamani che ti faranno i corsi che dovrai pagare e che dopo di che ti daranno un diplomino per dire pure tu sei sciamano gli sciamani vai nelle foreste equatoriali a trovarli vai in mezzo ai deserti a trovarli non certo su internet e lì la differenza tra il sistema e il non sistema quindi per chiudere questa digressione il mio consiglio è prima di addentrarti o di pagare o di spendere tempo e soldi dentro o con qualcosa o qualcuno che servirà a te per conoscere per comprendere informati e se questo qualcosa questo qualcuno questo metodo questo medico questo qualunque cosa rispetta il sistema questo che ti ho spiegato dubita dubita e cerca di capire qual è il vero motivo ripeto chi ha il diplomino fa parte del sistema non lo sa di farne parte è uno schiavo anch'esso il medico è convinto di farti del bene il medicolistico è convinto di farti del bene il guaritore è convinto di farti del bene sei tu che hai la verità in mano ti ha fatto davvero del bene o no? perché se dopo mesi anni e migliaia di euro spesi tu hai risolto piccole cose che magari sono quelle cose che risolvi con 4 tecniche di PNL che hai gratis sul salto quantico ma i problemi grossi dentro di te non li hai ancora risolti e continui a star male per qualcosa o per qualcuno o continui a provare delle sensazioni estremamente negativi o hai attacchi di panico o hai paura sì certo qualcosa ti hanno fatto ma è normale perché per renderti schiavo te la devono dare una carota te la devono dare un contentino perché se no non possono renderti schiavo devono darti un briciolo di piacere ma perché deve continuare per giorni mesi anni o una vita intera perché se no non saresti un consumatore cronico ricordati l'obiettivo è sempre quello di tenerti sotto controllo e consumatore cronico devi essere la loro pensione e allora prima di fare qualcosa chiediti con quello che sto facendo io gli sto per diventare una rendita? sì allora il suo vero obiettivo quale sarà? guarirmi? farmi star meglio? o diventare la sua rendita? e con questo ti chiudo questa digressione con questo dubbio da ora in poi chiediti sempre prima di fare qualcosa questa persona questo metodo questo sistema vuole davvero che io stia bene e che riacquisisca il mio libero arbitrio che io sia felice e possa essere libero da qualunque padrone oppure vuole soltanto che io cambi padrone e che diventi una sua rendita pensaci alla prossima grazie a tutti